Chiude la Porta Santa domani, la Porta Santa della Cattedrale di Cristo Re alla Spezia sarà chiusa dal Vescovo Luigi Ernesto Palletti. Avverrà domani alla Spezia come in tutte le diocesi del mondo, anticipando di una settimana la solenne chiusura del Giubileo della Misericordia da parte di Papa Francesco. La celebrazione alle 15.30 appunto in Cattedrale e potete seguirla anche in diretta su Tele Liguria Sud. L'appuntamento invece qui dedicato all'apertura è per la prossima settimana, domenica prossima la giornata, dedicata all'istituzione che forma i futuri sacerdoti, il seminario Una Storia Antica che si rinnova. Sono sette quest'anno i giovani che si preparano al sacerdozio e tre sono ormai vicini alla meta, ma il seminario è anche al centro di numerose iniziative di carattere spirituale e culturale. E sempre domenica prossima, Solennità di Cristo Re è non solo la giornata del seminario, ma anche la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. A centro pagina cinema, lo sguardo aperto, un Giubileo diffuso con i sapori del cinema e del teatro per comunicare a tutti la misericordia e per ritrovarne la grazia in tutte le vicende umane. È lo spirito di lo sguardo aperto, iniziativa in corso nelle sale di comunità, comprese quelle spezzine. A fianco, 130 anni fa, sorgeva la spezza alla parrocchia della Madonna della Scorza. Era il 13 novembre 1886, il vescovo di Luni, Sarzana, Giacinto Rossi, firmava la bolla di istituzione della parrocchia di Nostra Signora della Salute nel nuovo quartiere Umbertino. A fondo pagina, a Beverino, a partire dalle 10.45, si conclude domani la presenza nello spezzino della statua linea della Madonna di Fatima. E infine, a fianco domenica prossima, la festa della cattedrale, ultima domenica dell'anno liturgico e solennità di Cristo Re. È appunto anche la festa della cattedrale della Spezia, consacrata nel 1975. Queste le principali notizie che troverete domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.